Continuano i controlli capillari e senza sosta su tutto il territorio isolano per garantire giornate tranquille a residenti e turisti. L'occasione è quella adatta a questi weekend che suonano come veri e propri test per la grande stagione turistica. Ed è così per esempio che la Guardia di Finanza, dopo aver effettuato controlli agli sbarchi nei momenti clu degli arrivi, sia agli scafi che ai traghetti, di sera si trasferisce nel centro cittadino nei luoghi dove la movida anima la parte serale e notturna della vita isolana. E per garantire la tranquillità di una vacanza ai turisti che hanno scelto l'isola, ma anche ai residenti che pure hanno il diritto di vivere il proprio territorio senza troppi problemi, la Guardia di Finanza ha messo in piedi dei controlli capillari in prossimità dei vari locali notturni. Con le unità cinofile l'obiettivo era quello di evitare che sostanze stupefacenti introdotte in ambienti dove si accalca tanta gente in cerca di spensionatezza potessero trasformare il divertimento in qualcosa di diverso. La presenza di forze dell'ordine così visibili di giorno e di notte di sicuro funziona come deterrente per tutte le situazioni che potrebbero suonare come poco lecite. E così è stato in quella che è un'azione preventiva che sicuramente promette di non esaurirsi alle prove di questi giorni.